Buonasera a tutti siamo ancora qui in AffintiDog perché oggi vi vogliamo parlare di un attrezzo di gioco di lavoro con il cane è la pallina questa pallina con una porta a cosa serve questa pallina serve sia per il classico gioco di inseguimento ed anche per il tiramolla in commercio ce ne sono diverse dimensioni diverse fattura con questa il cane può giocare sia a rincorrere e sia a tirare da questa parte è molto utile per lavorare con cani un po timorosi perché la pallina tendenzialmente è un oggetto che quasi tutti i cani accettano e damano e grazie al gioco del tiramolla fatto con questa gallina il cane può recuperare autostima qualora arrivi da diverse situazioni non molto belle io per esempio la uso molto per giocare con cani un po timorosi che hanno bisogno di recuperare fiducia in se stessi e per aumentare la loro autostima all'interno dei nostri programmi di rieducazione del comportamento vi ringrazio per averci seguito ancora in questo video i consigli ricordate di seguirci sulla nostra pagina di facebook affintidog.educazionecinofila e sul nostro sito www.fintidog.it www.fintidog.educazionecinofila.it 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 www.fintidog.educazionecinofila.it